La scheda 8 tratta delle piccole e medie imprese, quindi un fenomeno tipicamente italiano che consente alla nostra economia di crescere e stare al pari delle altre economie mondiali. Ma cos'è una piccola e media impresa? Quindi è forse opportuno prima identificarla dai dati che vengono rilevati. Da piccole e medie imprese si intende quell'impresa che ha non più di 250 dipendenti e un fatturato, quindi un insieme del lavoro svolto che non supera i 50 milioni di Euro. Però nella categoria delle piccole e medie imprese abbiamo imprese tra loro molto diverse come dimensioni e si parla di piccole imprese ma anche di micro imprese, quindi imprese che sono veramente molto piccole con un numero molto contenuto di dipendenti. Quindi emerge subito un primo problema, la dimensione. Le piccole e medie imprese hanno tutta una serie di vantaggi ma hanno il problema della dimensione. Allora in questa scheda si fa riferimento ad un primo articolo che parla dei distretti industriali. Cosa sono i distretti? Sono un insieme di aziende di piccole e medie dimensioni che in qualche modo generano nel complesso quello che è il lavoro di una grande impresa. Perché? Perché ciascuna è specializzata in un pezzo di questa filiera produttiva. Se uno pensa ad esempio al distretto delle calzature oppure al distretto degli occhiali è connota come gli insiemi di queste piccole e medie imprese fanno quello che fa una grande impresa. Ma perché le piccole e medie imprese non crescono? Forse non crescono perché da un lato non vogliono crescere in quanto sono tipicamente a conduzione familiare. Dall'altro lato non crescono perché hanno bisogno di adeguati finanziamenti. Ed essendo piccole l'unico che dà un finanziamento a queste imprese è il mondo bancario. Ma il mondo bancario non riesce ad assistere le imprese quando vogliono crescere innovando, cioè sviluppando idee nuove. Perché solitamente questo avviene se l'imprenditore ci mette del suo, ci mette il suo capitale e rischia quindi in modo evidente. Allora, riassumendo, parlando di piccole e medie imprese e questi due importanti problemi, la dimensione e l'innovazione, ecco possiamo dire che sicuramente attraverso i distretti, attraverso nuove forme di finanziamento, le piccole e medie imprese possono sicuramente crescere. Ma sicuramente un altro aspetto fondamentale è che la conduzione dell'azienda, quindi la conduzione familiare, faccia un salto verso un momento innovativo decisamente più importante.